Il Presidente e il Fondatore dell'Accademia del Peperoncino Enzo Monaco Sono tante le sedi del Peperoncino in Toscana Tante le iniziative Camaiore forse ha la festa più grossa Come il numero coinvolge tutta la città Dopo il Peperoncino Festival di Diamante Sicuramente le vendo piccante più importanti d'Italia Ecco poi con tante manifestazioni collaterali Ieri c'era il Drago che viaggiava per le strade Ci sono i ristoranti che fanno i menù a base di peperoncino Ci sono in tutto Camaiore, in piazzetta, delle postazioni Insomma si espande sempre di più Sì la filosofia è chiara ed è precisa Si parte dal peperoncino che è piccante Poi si va nella gastronomia che è piccante Poi si va nelle piante E le piante sono le grandi protagoniste Abbiamo decine e decine di stand Però si va anche E qui è il passaggio che rende unica la manifestazione di Camaiore Come quella di Diamante Si va nella cultura e nell'arte Per cui una cultura è un'arte piccante Piccante non solo nei contenuti Ma anche nelle forme e nelle metodologie espressive Noi siamo abituati a vederli i quadri Esposti nelle mostre, nei musei Qui a Camaiore li abbiamo visti al collo di splendide ragazze Che passeggiavano per le vie del paese E i soggetti erano dei soggetti erotici Piccante non solo in gastronomia Ma piccante nella cultura e nell'arte Ci manca il cinema Ci manca il cinema Ma quando prima lo faremo Per cui sarà completo tutto il discorso A 360 gradi sul piccante Quindi una esplorazione completa del pianeta peperoncino Bene, molto molto bene Abbiamo quindi individuato quello che succede C'è da dire un'altra cosa Che questo premio, il premio Pic Ha un'esclusiva nazionale Cioè viene fatto solo a Camaiore Cioè l'Accademia del peperoncino Ha individuato Camaiore per questo premio Mentre Enzo si siede su una sedia che abbiamo dietro Io vorrei chiamare qui con me Gli altri protagonisti del premio In primis Cino Tortorella Prego, accomodati Poi abbiamo un giovane Ma bravissimo Bravissimo mago Lo avete visto I ragazzi lo conoscono Perché è sempre in televisione Su Rai Yo-Yo E poi anche su Rai Gulp Lui è mago gentile Eccolo Ciao Ciao caro Dove vado? Ti siedi Qui No lì Alla sinistra del padre Benissimo Poi abbiamo L'ospite importante Il personaggio che riceverà il premio Che chiamiamo con molta simpatia E che lo ringraziamo Di essere arrivato qui a Camaiore Il mago Silvan Benvenuto maestro Prego Si può Si può Accomodare Io vorrei dare la parola a Cino Tortorella Per spiegare Per motivare la scelta del mago Silvan C'è da spiegare Motivare una cosa così Normalissima Ogni anno cerchiamo un grande personaggio Per nominarlo premio Peperoncino E io ci ho messo quattro anni Prima di arrivare a Silvan Avrei dovuto farlo quattro anni fa Avrebbe dovuto essere il primo Scusami Io lo chiamo Aldo Sei qui Con quattro anni di ritardo Questo Questo Modo di premiare un personaggio Importante Ce l'avevano copiato qualche anno fa La Gacan Lo mettevano su una bilancia Qualcuno se lo ricorderà E davano Gioielli Cose preziose Noi abbiamo pensato A qualcosa di Molto più importante Che sono i prodotti Che tra poco Verranno consegnati A Silvan Intanto è arrivato Il primo cittadino Alessandro Del Dotto Che salutiamo Si accomoda Allora Alessandro Il presidente Enzo Monaco Ha appena detto Che questo matrimonio Sta andando sempre meglio Tra la Calabria E il Camaiore Quindi dalla parte di Camaiore Rispondiamo alla Calabria Diciamo che intanto Ringrazio ovviamente L'Accademia del Peperoncino Che accompagna L'organizzazione Di questa nostra manifestazione È un gemellaggio intelligente Nel senso che Non ci gemelliamo Per cose che abbiamo Ma per uno scambio importante Noi qui abbiamo Una grandissima tradizione Enogastronomica Una grandissima cucina Che è riconosciuta In tutta la Toscana Le grandi tradizioni Delle nostre Norcinerie Accompagnate a una tavola Veramente importante Di fronte a cui Devo dire che il Peperoncino È uno degli elementi Poi fondamentali Si parlava io In questi giorni Quando mi erivo intervistato Ricordavo sempre Che l'Italia Non produce peperoncino A sufficienza Neanche per il proprio Fa bisogno E allora visto che abbiamo Anche un settore agricolo Importante Voglio ricordare Che il Comune di Camaiore È il Comune Che ha più aziende agricole In tutta la Versilia In tutta la provincia di Lucca Magari viene in mente Che questo sia Uno spunto importante Per pensare anche Di gemellarsi Sulle produzioni Di peperoncino Bene Adesso Non rimane che Far entrare Il re peperoncino Sua maestà Interpretato da Gianni Pellegrino Accompagnato Dallo stacchetto blues Eccolo qua Re Peperoncino Che benedisce tutti Il nostro re Che cosa gli dai? La peperoncino Che poi vorrei Ufficialmente Peperoncinizzare Il mago Perché Se mi aiuti Io do la peperoncinizzazione Allora Mago peperoncinizzato Mago fortunato Il tuo successo È assicurato Toccami il bastone E avrai un successone Bene Allora Mago Gabriele Vogliamo Vogliamo Un po' Ecco Farci vedere O non farci vedere Qualcosa Insomma Il palcoscenico è tuo Fai come ti pare Quanto tempo ho? Un'oretta Due? Ma diciamo Dieci minuti No Spesso Quando ogni pacchetta Svanisce Come per magia L'applauso totale Del pubblico Wow Se vedete Tutti quanti Due punte Eccole qua Due punte E un centro Vuol dire che avete bevuto Dell'acqua naturale Magari con le bolle Ma basta un bicchiere di vino Di camaiore Un bicchiere di vino Tipo quello che ho bevuto Oggi a tavola Con gli amici E uno comincia E uno comincia ad avere Delle percezioni Illusorie E infatti Toing Tre punte Comincia a vedere Tre punte E un centro Ma basta un altro Bicchiere di vino Per vedere Quattro punte E un centro Una Due Tre Quattro punte Solamente un centro Qualcuno dirà Mago gentile Ho bevuto talmente vino Che adesso Ci vedo doppio Quindi se anche voi State vedendo Due corde Ma prima Di iniziare il gioco Ne vedevate una Contiamo tutti quanti Fino a tre Spezziamo l'incantesimo E speriamo anche Sta campana Uno Due Tre La corda torna a essere Una sola E il gioco è perfettamente riuscito Wow Tieni con la manina Le due punte Attenta a non romperla Tienila bene in alto Brava Tienila Brava Tienila No Staccato le punte Rimango con un anello La mia corda preziosa Ecco qua gli 80 euro Di Renzi Dove sono finire Me li sono bruciati così Capito No ma lei è stata brava Non è colpa sua Bimba Non le mettere in testa Se no diranno Che è le doppie punte Non lo fare Però prendi un applauso E torni a posto Guarda che carina Ma è a posto Rimango con un anello Da questa parte E le punte Dall'altra parte Allora lo voglio fare Molto lentamente Anche perché La gente pensa sempre Che il prestigiatore Riesca a fare le sue magie Grazie all'abilità E la velocità manuale Questo è vero Però per una volta Voglio provare Il contrario Metto lentamente Le punte a cavalcioni Della corda Chiedo a voi Di soffiare di qua Molto bene Il bambino Più di 50 anni Ha soffiato benissimo Proviamo la bimba di qua Le punte Si fondono Si riattaccano E la corda Torna intera Wow Le punte In mano Il centro Da questa parte Lentamente Metto le punte Punte in tasca Così Ok Lo faccio anche per coloro Che sono alla mia sinistra Bene Punte in tasca Centro In mano Ho bisogno ancora Della vostra energia Dovete crederci Perché in fondo Siamo stati tutti bambini Quindi si tratta Di tornare indietro E ritornare ad essere Bambini a meno per una volta Per riscoprire il fanciulino Come diceva Col grande boeta Ok Credeteci Uno Due Tre E al posto del centro Toing Arrivano le punte Al posto delle punte Arriva il centro Vai maestro E la corda È sempre Intera Grazie Grazie Quindi direi di entrare Nel vivo Con Come i grandi Pugili Non so Bisogna andare al peso Bisogna andare al peso Ci sono i nostri tecnici Della bilancia Per capire Quanto pesa Il mago Silvan E per poi dargli I premi Che sono lì Da noi Allora Prego maestro Andiamo Al Al peso Sì La bilancia vera Questo è anche il momento Delle foto E di tutto quanto Vediamo un po' Siamo Beh Dobbiamo dire che lei È in forma sbagliante Perché Eh Per fortuna Dell'Accademia È anche nostra Perché Siamo sui 67 Le torna Le torna È la prima volta In vita mia Che qualcuno Mi pesa Davanti a un pubblico Straordinario Che sta applaudendo All'infinito Quello che ha fatto Il mio collega gentile Grazie per l'attenzione Voglio dire che Molti anni fa All'inizio degli anni 90 Io conducevo Un programma telemesivo Dove è l'asso Alla sera Alle ore 21 Eseguendo il gioco Delle tre carte In diretta Distribuivo Al pubblico Che indovinava Dove era Nascosto L'asso Una fornitura Alimentare Per una settimana Ma considerando Che il mio peso 67 kg Probabilmente Io E la mia famiglia Le gusteremo La delizia Per mesi interi Bene Allora Cominciamo Mi dai una mano Cominciamo con i prodotti Ecco ci sono anche loro Partiamo Adesso Quindi lei Dovrebbe per cortesia Scendere Perché Mettiamo i prodotti Fino ad arrivare A 67 kg Abbiamo Spaghetti Birra Al peperoncino Tutti Tutti i prodotti Dell'azienda Carmazzi Poi abbiamo I prodotti Della terra Di Camaiore Offerti dalla CIA Confederazione Italiana Degli Agricoltori Confetture Miele Importante Miele Qui a Camaiore Abbiamo Una grande tradizione Abbiamo altri prodotti Al peperoncino C'è anche un cedro Perché Attenzione Alcuni prodotti Derivano Anche dall'Accademia Cioè Dalla Calabria Perché in questo gemellaggio Sono prodotti Di Camaiore E prodotti Della Calabria Qui abbiamo Eccoli I salumi Del Trilia La famosa Mortadellina Di Camaiore Che poi sentirai Una squisitezza La mortadellina Di Camaiore Eh sì Ci siamo arrivati A questo punto Una bella foto Ricordo Perché di solito Quando c'è il premio Si dà La targa Si dà Qui abbiamo Questi prodotti Quindi avvicinatevi Qui davanti Intorno ai prodotti Di Camaiore Della Calabria Vieni Cino Io mi sposto Perché sennò rovino la foto Guardate Date una stretta di mano Eccoci qua E abbiamo Immortalato Immortalato Ecco Così Eeeh Adesso però Io No Le vorrei dire una cosa No Siamo un po' tutti No Curiosi Vogliosi Ci potrebbe regalare Un qualcosa Un momento Di magia Qui Che dice il pubblico Che dice Il nostro Mago Si Dovrei improvvisare Qualche cosa Non essendo preparato Dovrei improvvisare Qualche cosa Che ognuno di voi Può Ugualmente fare Nelle proprie case Vi sta bene Allora Vediamo un pochino Se riuscite A comprendere Quello che dirò Fra qualche istante Perché io non ho Il microfono Non ho il No Pronto Mi sentite Allora State attenti Intanto andate Se volete rimanere là Rimanete là Rimanete là Lo stesso Allora state attenti Io sono abituato A parlare al pubblico Pubblico teatrale Pubblico televisivo E pubblico di piazza Dovete fare Un po' di attenzione Perché voglio Spiegarvi un segreto Come si fa A vincere a poker Chi non ha mai amato Pensato per un attimo Soltanto di vincere Giocando a poker E' chiaro? Allora voi dovete sapere Che il prestigiatore Il mago L'illusionista Il manipolatore In questo caso Gli è sottoscritto Manipolando Migliaia di mazzi Di carte Io lo faccio Da 50 anni Pensate un pochino Avevo 7 anni Quando iniziai A fare i miei primi Giochi di prestigio Acquisisce Una distrezza di mano Ma oltre che Alla distrezza di mano Anche una sensibilità Nei polpastrei Una sensibilità digitale Ora state attenti Perché qui non c'è trucco Non siamo in televisione Siamo davanti a due passi Epidemicamente parlando Ci possiamo toccare E' vero? State attenti Io prendo Vediamo un pochino Se devo avere Eccolo qua Un mazzo di carte State attenti La cosa è molto semplice La cosa è molto semplice Ma non farò un gioco di prestigio Cuori, fiori, picchi e quadri Nella tasca destra Ok? Non c'è problema E' semplice Semplicissimo Chiude la bocca Perché non passano le mosche Attenzione State attenti Ora chiedo a una persona Per esempio A quel signore con la barba La stia attento Lei si Mi dica per piacere Una carta Cuori, fiori, picchi e quadri Una carta soltanto In 52 carte Silenzio Dica Cuori Mi dica il numero Asso di cuori Lei vuole l'asso di cuori Ha detto asso di cuori? Abbiamo mescolato 52 carte Chiaro? Attenzione Cerchiamo di trovare In mezzo alle carte Ora è facile Non è assolutamente facile Ragazzi Eh no Se fosse facile Lo farebbero tutti quanti Giusto? Si sono Niente Si sono attorciti Dovrei togliere qualche carta Ma Ragazzi Eccola qua Credo Non lo so No Ho sbagliato Vedete Vedete che potevo fare il fiasco Ho sbagliato Infatti No no C'era uno E poi io c'ho il due Attenzione Siamo vicini Tansion S'il duple Piano Suspense Chiudo la bocca anche lei Piano Suspense Attenzione Piano Suspense È difficile Glielo ho detto prima che tanto È molto difficile Eccola qua Eccola qua Vedete che è difficile Veramente Non riesco a trovare la carta Non riesco a trovare la carta Senta Asso di picca e non va bene per lei No Asso di cuori proprio Vuole Non riesco a trovare Sto cercando le mie tasche E questo fa vedere che non è facile Eccola qua No A questa parte Vede Questo fa vedere che Quello che sto facendo È legittimo No Vole a dire che Non è truccato Vede anziché cuori Questo è bello lo stesso Perché i ragazzi sono 52 carte C'è L'asso di quadri Chiaro? Sempre toni rosso Dica per cortesia Un'altra persona Lei mi dica una carta Lei Sette di fiori Sette di fiori Sette di fiori Sette di fiori non è facile Eccolo qua Attenzione Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Sette di fiori Allora, dicevo soltanto una cosa C'è ancora una persona Che può chiedere un'altra carta Guardate, io fatta in età C'ho una carta che si mi è proprio Incollata qua Dall'inizio Non so perché Ma è L'asso di cuori suo Cuori, 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 cuori Ecco, cuori Attenzione, guardi Mi attenta signora Lei Mi dica una carta Ca Re di Danà Reggio che cos'è? Il re Guardi, signora Facciamo una cosa Perché veramente Tutto diventa molto difficile State attenti Prendiamo le carte Mia, destra, sinistra Attenzione Mazzo di carte Ha detto re di quadri E dentro probabilmente Il mazzo di carte Che avevo metà e metà È chiaro? Non c'è trucco State attenti Mescoliamo il mazzo Così Giusto? State attenti Re di quadri Attenzione Signori Re di quadri So Mi auguro di tornare Qui da questa parte Con il mio grande spettacolo Voi sapete che sono in giro Per l'Italia Con uno spettacolo Intitolato La grande magia Composto da dieci persone E mi auguro di tornare Anche qui A Camaiore Sta piovendo Ragazzi Grazie Cosa Sì 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 Grazie a tutti.